Ciao a tutti ragazzi, come va? Spero va tutto bene. Oggi vi faccio una recensione no spoiler di Robot Dreams, portato da noi qui in Italia con il titolo di Il mio amico robot. Quindi vi dirò punti di forza e criticità di questo film. Quindi direi di partire subito dalla trama di Robot Dreams, che in realtà è molto molto semplice. Ci troviamo a New York negli anni 90 e la storia si baserà sul protagonista che è un cane. Questo cane, che lo vedremo dai primi minuti, si sente molto solo e di fatto decide, vedendo una pubblicità in tv, di acquistare un robot. E quindi seguiremo la storia di questo cane e di questo robot tra sogno, realtà, amicizie e forse qualcosa di più. Secondo me è già un vantaggio quando un film riesce a spiegarlo con pochi concetti e poche parole. Non per questo è un film semplice, anzi, secondo me agli occhi di un bambino è abbastanza complicato leggere questo film. È molto semplice seguire le ambientazioni, seguire alcuni pezzi di storia di questi personaggi, ma seguire ciò che accade, soprattutto dal punto di vista emotivo, è molto complicato. Quindi direi di passare subito ai punti di forza di questo film. Se avete visto solo il trailer vi sembrerà un po' strano come punto di forza, ma questo stile d'animazione molto televisivo, secondo me, è super funzionale alla storia. Non ci sono incertezze nell'animazione, va tutto molto fluido e ci sono alcune chicche proprio nella tecnica d'animazione che sono molto, molto interessanti. Altro punto di forza fondamentale, e questo si capisce subito dal trailer, sono le colonne sonore che sono incredibili, soprattutto September, che è una canzone senza tempo e secondo me veramente incredibile. E sono proprio queste musiche, queste colonne sonore a sorreggere questo film. Alcuni personaggi, soprattutto uno che vedrete nella seconda parte della storia, sono fatti a livello di design e sono anche scritti molto, molto bene. Comunque ho sentito un sacco di gente dire questo è un film per tutti, un film adatto a tutte le età, ma secondo me questo film un bambino non riesce a capirlo. E non per il fatto che i bambini siano poco intelligenti o stupidi, attenzione, penso esattamente il contrario. Penso che siano molto intelligenti anche per questo, penso che non debbano sorbirsi per forza ai film dei me contro te. Ma questo è un film con molti layer, molte sottotrame e che è basato molto sulle emozioni dei personaggi e che quindi per un bambino è più difficile comprendere questi sentimenti. Ci sono molte critiche alla società moderna, poi sì, il film è ambientato negli anni 90, però la critica c'è e vale ancora tutt'oggi. Sono contento che si sia raccontata una storia d'amore, secondo me, in un film che in qualche modo è stato venduto comunque ai bambini più piccoli. Non vi spoilero quale storia, ma secondo me dal trailer si può già intuire facilmente. E qui, continuo a non fare spoiler, ma la scena finale, per chi ha visto il film, sarà d'accordo con me sul fatto che è la cosa migliore di tutto il film. O forse no, magari qualcuno non sarà d'accordo con me, ma secondo me se il film fino a quel momento è stato carino, con la scena finale il film diventa spettacolare. Io solitamente non do molta importanza ai finali, ma questo, cavolo, se ha importanza. E il film insegna, secondo me, una cosa molto importante, ovvero l'abbracciare il cambiamento. È una cosa che molte persone non riescono a fare, ma che è fondamentale per raggiungere nuovi obiettivi nella propria vita. E adesso passiamo dalle stelle alle stalle, ovvero passiamo ai difetti del film, che non sono molti. Secondo me il film è stato concepito inizialmente come un cortometraggio, ragione per cui, secondo me, dalla scrittura della sceneggiatura e dall'andamento del film, sembra che si sia allungato un po' il brodo. È una cosa che è successa con un altro film, che mi è piaciuto in maniera molto simile a questo, ovvero Marcel Deschelles. Era questo documentario in stop motion molto molto carino. E l'altro difetto che si allaccia a quello precedente è il fatto che la parte centrale va molto ad episodi. E questa parte centrale di per sé non sarebbe un difetto, ma purtroppo trovo che nella parte centrale del film si sia caratterizzato molto uno dei due protagonisti e trovo invece che l'altro sia stato un po' accantonato. Vedendo il film capirete sicuramente di quale dei due personaggi sto parlando. Questi in breve erano, secondo me, i pregi e i difetti in Robot Dreams. E ora passiamo a una critica legata alla traduzione italiana del titolo del film. Perché tralasciando il fatto che ci sia una storia d'amore o meno, quello lì secondo me va a libera interpretazione. Proprio qui casca l'asino, perché la traduzione da Robot Dreams a Il mio amico robot secondo me toglie due cose dalla testa delle persone vedendo questo film. Ovvero che il definire il robot come amico limita molto l'immaginario e il pensiero che può avere una persona riguardo al rapporto tra i due personaggi. Questo secondo me si vede già dal trailer e coloro che l'avranno notato capiranno che non ha molto senso chiamarlo Il mio amico robot così. Un'altra cosa che secondo me limita l'immaginario delle persone che guardano questo film riguarda proprio il gender del robot. Dato che io adesso gli do un'accezione maschile. Ma a tutti gli effetti dal trailer si potrà essere capito Robot Dreams è per la maggior parte un film muto. E quindi questa cosa non ci permette di capire se il robot è effettivamente un maschio o una femmina. Io durante tutto il film personalmente gli ho dato un'accezione maschile proprio per il titolo del film. E questo secondo me è un appello importante da fare per far capire a chi distribuisce il film o a chi di dovere che tradurre i film in modo sbagliato può limitare tantissimo l'immaginario nella mente delle persone. E che secondo me è anche un po' un insulto verso il film. Ma lasciando da parte le critiche legate alla traduzione in italiano del film cosa ne penso di questo film? Vi consiglio di andare a vederlo? La mia risposta è assolutamente sì. Se ci riuscite. Perché dato che non sta incassando nulla o lo programmano a orari di merda oppure non si trova proprio nel cinema. Quindi se riuscite ad andare a vederlo vedetelo perché secondo me è uno dei film che merita di più in questo momento in sala. Sicuramente uno dei migliori film d'animazione usciti quest'anno. Quindi ragazzi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo film se l'avete già visto o cosa ne pensate riguardo al trailer. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e ci vediamo al prossimo video.